Oggi credo che sia stata una partita pari, come ho detto prima non mi è piaciuta sotto aspetto tecnico, l'ho detto anche ai ragazzi al primo tempo, però mi è piaciuto molto come abbiano profuso ogni energia in campo e su questo non si può dire niente, nessuno può dire niente, perché veramente hanno dato tutto quello che avevano. Durante la gara abbiamo cercato di apportare delle modifiche, ci siamo riusciti parzialmente, siamo stati condizionati anche un po' da due munizioni presi nello stesso settore di campo, da Balzaretti e da Marchigno, anche questo ci faceva pensare un po'. Però insomma, al di là di questo, credo che abbiamo tentato di migliorare la situazione, ci siamo riusciti parzialmente, perché poi nel momento che la Lazio è andata in vantaggio abbiamo perso anche un po' di fisionomia, che invece all'inizio del secondo tempo avevamo dimostrato e che ci aveva fatto mettere le mani sulla gara.